Beh, Mautino, inizio agosto, fa caldo, si va al bar, si compra un gelatino. Ce l'avevate i gelati, immagino, anche al bar Mautino? Era il bar Mirage, quello dei miei genitori, sì, non Mautino. E tra l'altro c'è ancora, anche se ha cambiato nome, e non è più dei miei genitori, ma è sempre lì nel paese. Comunque sì, avevamo i gelati, certo. E quindi quando arriva al camioncino, tu da piccola potevi accedere a qualsiasi gelato volessi. Sì, nei limiti di quello che mi veniva concesso. Ecco, però la vera domanda è, il famigerato conopalla, lo tenevate o no? Perché c'è questa leggenda metropolitana, se ascolti un po' di baristi, che ti raccontano Ah no no, il conopalla non si tiene perché poi cade la palla macchia dappertutto, e non c'era mai infatti, non si trovava. Ma infatti io non me lo ricordo il conopalla, se devo proprio dirtelo, cioè mi ricordo tutti i gelati dell'epoca, ma il conopalla, no, l'ho anche cercato adesso qua su Google e sinceramente non me lo ricordo. Quindi forse è vero, cioè non è una leggenda, ma è proprio vero che non lo tenevano. Adesso chiederò ai miei, anzi ci ascoltano, quindi insomma chiamatemi e ditemelo. E ovviamente se ci sono bariste e baristi in ascolto potete dirci la vostra anche sul conopalla. Come avrete intuito forse da questa lunga introduzione, oggi parleremo di gelati. Questa infatti è una spora, quindi una puntata di Ci vuole una scienza un pochino più breve e soltanto su un argomento. E quindi vi racconteremo un po' di cose sulla scienza dei gelati. Io sono Emanuele Megnetti. E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza? Spore! E allora iniziamo pensando proprio a quanti ingredienti del gelato vi vengono in mente. Cioè pensateci un momento, no? Vabbè i più comuni li avrete già probabilmente identificati, quindi sono il latte, la panna e lo zucchero. E fin qua effettivamente era facile, però a questi che fanno da base si aggiungono poi cioccolato, pasta di nocciole, vaniglia e tutti gli altri vari gusti. C'è però un altro ingrediente essenziale, essenza al quale non potremmo avere gelati spumosi e cremosi. È anche il meno costoso di tutti, bisogna dirlo. Si trova ovunque ed è anche importantissimo per noi, oltre che per i gelati. Insomma sì, stiamo parlando dell'aria. L'aria da sola costituisce solitamente tra il 30 e il 50% del volume totale di gelato. E quindi basta fare un minimo mente locale per rendersene conto. Ce ne accorgiamo per esempio quando non finiamo una vaschetta di gelato e la lasciamo lì un po' più del dovuto al caldo, magari in una giornata estiva come questa. Alla fine se prendiamo la vaschetta e poi la mettiamo nel freezer per provare a congelare di nuovo quel gelato lì che si era sciolto, quello che ne viene fuori è una cosa abbastanza deludente. Ci ritroviamo con una specie di iceberg compatto, difficile da scalfire, che è molto diverso dal gelato spumoso che avevamo comprato al supermercato pure in gelateria il giorno prima o anche al bar. Che cosa è successo? È successo che sciogliendosi il gelato ha perso buona parte dell'aria che era intrappolata all'interno di quella massa spumosa e si è sgonfiato. E sì, e i gelati confezionati di solito hanno molta più aria al loro interno rispetto a quelli artigianali. Poi dipende molto dalle marche ovviamente, quindi in generale a parità di temperatura di partenza un gelato confezionato che contiene molta aria si scioglie più velocemente rispetto a uno che ne contiene di meno, questo è inevitabile. Inoltre un gelato con tanta aria è meno denso ed è anche più voluminoso. E questo magari la prossima volta che comprate del gelato confezionato al supermercato lo potete notare anche da soli e da sole. Se per esempio prendete due confezioni di marche diverse con lo stesso peso, noterete che le vaschette non hanno le stesse dimensioni, proprio perché ogni produttore usa più o meno aria, poi ci sono dei limiti ovviamente. Il peso è lo stesso, però il volume no perché appunto è cambiata la densità del prodotto. Di solito i gelati di maggiore qualità sono un pochino più densi e quindi le loro confezioni tendono ad essere più piccole e naturalmente stiamo sempre parlando a parità di peso, quindi guardate l'indicazione del peso sulle confezioni. Mennetti, non si vive però di sola aria e nel gelato come dicevamo prima ci sono diversi altri ingredienti. Uno dei principali del gelato classico è il latte, l'hai detto anche tu prima, che contiene il lattosio che è uno zucchero che di suo non è tanto dolce. Durante la produzione del gelato viene quindi aggiunto lo zucchero comune, quindi il saccarosio, perché le nostre papille gustative non se la cavano bene a percepire i sapori degli alimenti molto freddi. Se avete assaggiato del gelato sciolto a temperatura ambiente, insomma anche con questo caldo ci va anche poco, insomma aspettare che diventi di temperatura ambiente, vi sarete accorti che ha un sapore molto più dolce della sua versione fredda. È un po' lo stesso effetto che notate quando bevete una bevanda frizzante a temperatura ambiente. Di solito la componente dolce viene di più fuori. Oltre allo zucchero il gelato ha anche una discreta percentuale di grasso ovviamente ed è di solito intorno al 10%. Questo proviene quasi esclusivamente dal latte o spesso dalla panna. Poi adesso ci sono tanti gelati che non hanno latte ma hanno altre sostanze, però per il gelato classico vale questo. Più un gelato poi è cremoso e vellutato e più è probabile che abbia un alto contenuto di grasso e un pochino aria in meno al proprio interno. Ovviamente la presenza di grasso pone qualche questione per quanto riguarda la linea, ma ne parleremo dopo, però pone anche un piccolo problema nella preparazione stessa perché tende il grasso a starsene per conto proprio e a non mischiarsi con gli altri ingredienti. È un po' come quando mettiamo dell'olio in un bicchiere d'acqua, l'olio galleggia in superficie e anche se proviamo a mischiarlo dopo un po' tornerà a galla separandosi di nuovo dall'acqua. Per evitare che questo accada col grasso e gli altri ingredienti del gelato è necessario produrre un'emulsione e fare poi in modo però che questa emulsione rimanga anche stabile. Chimicamente parlando anche il latte è un'emulsione di grasso in acqua e ha una certa stabilità. Ogni globulo di grasso presente nel latte è ricoperto da uno strato di proteine che gli impediscono di interagire con i suoi simili, quindi con gli altri globuli, e di fondersi insieme a loro, come avviene con le goccioline d'olio quando iniziano a separarsi dall'acqua formando poi uno strato a parte. Queste proteine del latte fanno da emulsionanti e permettono ai globuli di grasso di non aggregarsi. Se però vuoi fare un gelato devi trovare il modo di creare una struttura fatta di globuli di grasso che sia in grado di imprigionare le piccole bollicine di aria. E per farlo si utilizza un altro emulsionante, di solito una lecitina, che facilita l'avvicinamento dei globuli di grasso. Le lecitine, qua non ci soffermeremo troppo, sono sostanze presenti in numerosi tessuti vegetali e animali, come anche il tuorlo dell'uovo, e non a caso questo è un ingrediente che ricorre in molte preparazioni per i gelati, soprattutto in quelli artigianali. Invece in quelli industriali vengono utilizzate spesso delle lecitine di tipo vegetale. L'aggiunta di lecitina fa stare insieme quella struttura di globuli di grassi di cui parlavi anche tu prima, Mautino, e che fassi poi che all'interno sia intrappolata all'aria durante la mescolazione per preparare il gelato. A questo protogelato vengono poi aggiunti gli stabilizzanti, che servono sia per evitare che si formino dei cristalli di ghiaccio troppo grandi, sia per mantenere la cremosità del gelato stesso. Gli stabilizzanti più usati sono le gelatine, ma se negli ingredienti del gelato sono presenti le uova, allora è probabile che buona parte del lavoro lo faccia l'albume stesso. Sulle etichette si trovano spesso delle indicazioni come carragenina oppure alginato di sodio, che si ottengono da particolari alghe che ci aiutano ad avere dei gelati che mantengono la loro struttura più a lungo. E quindi la prossima volta che ne mangiate uno, magari in riva al mare, potete anche ringraziare qualche alga. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. E un bacio al cioccolato, Dio te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Vabbè, questa canzone Mautino non ha bisogno di presentazioni, quindi possiamo andare oltre. No, no, no. E possiamo dire che in tutto questo elenco di ingredienti che vi abbiamo fatto, non ne abbiamo ancora citato uno che è altrettanto fondamentale, e se possiamo definirlo un ingrediente, ed è il freddo. Perché dopo aver mescolato tutto insieme, dobbiamo usare un congelatore per portare questa soluzione alla giusta temperatura, mescolandola poi di continuo, proprio perché venga incorporata l'aria e non si formino dei blocchetti di ghiaccio. Il gelato non congela a zero gradi Celsius come l'acqua, perché al suo interno ci sono molte altre sostanze che portano più in basso. il punto di congelamento. Quindi di solito per ottenere il congelamento si devono raggiungere i meno 3 gradi Celsius, ma la conservazione in gelateria avviene poi a temperature ancora più basse, che sono intorno a meno 12 gradi Celsius. Questo soprattutto perché una volta che vi hanno servito il gelato, ci deve essere il tempo di poterlo mangiare prima che vi si squagli completamente in mano. I gelati industriali di solito sono mantenuti a temperature ancora inferiori, anche perché sono nei congelatori dei supermercati, che di solito sono intorno ai meno 18 gradi Celsius. E questo gran freddo ci porta a parlare di un fenomeno che segnalano alcune persone, e cioè il cosiddetto mal di testa da gelato, che è una sensazione che si sviluppa e che dura pochi istanti dopo aver consumato il gelato, o più in generale delle bevande o dei cibi molto freddi. Il fenomeno è noto ed è studiato da molto tempo, ma alcuni dei suoi meccanismi non sono stati ancora completamente compresi. Nel 2016 un gruppo di ricercatori in Germania aveva messo a confronto due metodi diversi per stimolare un mal di testa da gelato. Erano un po' crudeli questi ricercatori. Un po' sadici, sì. avevano chiesto ai volontari di spingere con la lingua un cubetto di ghiaccio contro il palato, mentre nell'altro caso di bere velocissimamente un bicchiere di acqua gelata. Era stata registrata una maggiore incidenza del mal di testa in questo secondo metodo, quindi quello dell'acqua gelata buttata giù alla veloce. I ricercatori avevano però riscontrato una durata inferiore dell'attacco di mal di testa rispetto a quello ottenuto dal cubetto di ghiaccio, che però era meno doloroso. Quindi insomma due risultati un po' diversi, due dinamiche differenti. E un'altra ricerca che era sempre stata condotta in Germania, dove evidentemente il problema del mal di testa da gelato è piuttosto sentito, aveva invece interessato circa 600 volontari. E in questo caso era stata riscontrata un'incidenza del mal di testa da gelato in circa la metà di queste persone che partecipavano all'esperimento. E poi in quasi il 93% dei casi la durata degli episodi era stata inferiore ai 30 secondi. In questo caso lo studio non aveva rilevato un maggiore fattore di rischio tra i partecipanti, magari soggetti di loro natura a emicrania più di altri, in contrasto però con altre ricerche che avevano invece segnalato un potenziale collegamento. Uno degli studi più citati su questo tema risale al 2012, quando un gruppo di ricercatori della Harvard Medical School degli Stati Uniti aveva indotto il mal di testa da gelato in 13 volontari con un bicchiere di acqua molto fredda, quindi con un esperimento simile a quello che abbiamo visto prima, però in questo caso bevendo da una cannuccia. Il gruppo di ricerca aveva notato un aumento nell'afflusso di sangue nell'arteria cerebrale interiore. Questa è una dei quattro rami in cui si divide l'arteria carotide interna, che è il grande vaso sanguigno che porta il sangue al cervello e agli occhi. Una breve lezione di anatomia usando il gelato. Comunque l'aumento del flusso portava a un'espansione dell'arteria e di conseguenza alla compressione dei tessuti che stanno lì intorno, comprese anche delle terminazioni nervose. Quindi se tu schiacci le terminazioni nervose, dolore. Infatti, secondo i ricercatori, questa circostanza determinava quelle fitte tipiche del mal di testa da gelato, la cui breve durata dipende dal fatto che l'afflusso di sangue nella carotide si riduce poi dopo pochi secondi, riportando a una situazione di normalità. Secondo il gruppo di ricerca, questo processo attiverebbe una sorta di meccanismo di autodifesa che viene utilizzato dal nostro organismo quando sente il pericolo di un repentino abbassamento della temperatura del cervello. Tra gli appassionati di questo argomento, lo studio del 2012 è stato sempre molto citato perché dà una spiegazione alternativa a quella che era stata invece data in precedenza. Infatti, secondo altri studi svolti negli anni antecedenti, il mal di testa da gelato era causato dal repentino raffreddarsi e scaldarsi nuovamente dei piccoli vasi sanguigni che si trovano nei seni paranasali, quindi in sostanza nel naso, e che portano a una loro costrizione e poi successiva dilatazione. Questi sommovimenti sono percepiti dai recettori che si trovano nel palato che attivandosi inviano un segnale al cervello attraverso il nervo trigemino che è uno dei più importanti nell'area del viso e scatenano quindi un rapido attacco di mal di testa. Del resto, le nevralgie sono spesso anche causa di mal di testa. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Canzone decisamente migliore della precedente, e faccio notare all'ascoltatrice e agli ascoltatori che questa l'ho scelta io, mentre quella prima... Non tutti i gusti di gelato sono alla menta, cara Mautino. Bella lì. Comunque, parlavamo di zuccheri, tanti, di grassi, tanti, di calorie, tante. Il gelato, insomma, come tutti i dolci, è un alimento che nelle linee guida nutrizionali si consiglia di assumere sporadicamente, dovrebbe essere uno sfizio, diciamo, più che un'abitudine. Sugli effetti del gelato sulla salute, però, c'è una storia interessante che è stata pubblicata nel mese di maggio dalla rivista Atlantic col titolo di Ice Cream Conspiracy, cioè il complotto del gelato. Attenzione. In pratica, nel 2018, Andres Hardison Korat, che all'epoca era dottorando ad Harvard, ha presentato ai suoi colleghi e ai suoi supervisori i risultati di uno studio che aveva condotto e che portavano a una conclusione insolita, che è questa. Cioè, tra i diabetici, il consumo quotidiano di quella che loro hanno chiamato half cup, perché gli americani misurano tutto in cup, eccetera. È sempre molto pratico. Esatto, però possiamo dire l'equivalente di una nostra coppetta. La coppetta piccola di gelato era associata a un minore rischio di problemi cardiaci. La scoperta di Korat aveva creato un certo scompiglio ad Harvard, dove c'è un rinomato dipartimento che si occupa di nutrizione e salute pubblica, le cui indicazioni poi nutrizionali e il famoso piatto di Harvard, che trovate cercandolo con Google anche in italiano, sono diventate uno degli standard a livello globale per quella che viene definita la nutrizione bilanciata. E quindi gli scienziati erano di fronte a un certo dilemma. Come affrontare una scoperta che sembrava contraddire tutto quello che avevano precedentemente sostenuto riguardo al gelato e poi anche più in generale ai latticini? In realtà i dati di Korat non erano i primi ad andare in quella direzione. Erano già emerse negli anni precedenti delle prove del fatto che i latticini potessero essere associati a un leggero effetto preventivo nei confronti del diabete, con un effetto che però era più marcato proprio per il gelato. La cosa interessante, perlomeno sul piano della comunicazione, è che questo effetto del gelato è sempre stato tenuto un po' nascosto, per dare invece molto spazio e anche molta importanza, per esempio, allo yogurt. Lo stesso dipartimento di Harvard scriveva in uno studio pubblicato nel 2014 che, citiamo testualmente, un maggiore consumo di yogurt è associato a un rischio ridotto di diabete di tipo 2, mentre gli altri latticini e il consumo totale di latticini non lo sono. Peccato che in quello studio emergesse anche il ruolo del gelato, che però non è stato comunicato. E del resto, dal punto di vista della percezione, lo yogurt ha una reputazione molto migliore del gelato, no? Quindi dire mi mangio uno yogurt fa subito dieta e poi c'è tutta la componente della flora batterica, del microbiota, che ultimamente va tantissimo di moda, anche magari in ambito medico. Quindi quella dello yogurt è una storia molto più semplice da raccontare di quella del gelato. Sembra proprio la scelta salutare per antonomasia. Però quindi c'è davvero un complotto per nasconderci che il gelato fa bene alla fine di tutto questo, Martino? La risposta è complessa. Eccola lì. Non è dipende, ma è complessa. Una delle ipotesi è che ci sia quella che gli scienziati chiamano causalità inversa, cioè che le persone che hanno il diabete, oppure delle magagne che predispongono al diabete, vengano messe a dieta e quindi riducano il consumo di gelato. Per cui non sarebbe il gelato a prevenire il diabete, ma sarebbe il diabete a impedire alle persone di mangiare il gelato. Quando gli scienziati hanno testato queste ipotesi, quindi quella della causalità inversa, hanno visto una riduzione dell'effetto protettivo del gelato, che però non è scomparso del tutto. L'effetto del gelato è rimasto lì abbastanza inspiegabile ed è al momento tuttora abbastanza inspiegato. I nutrizionisti di Harvard, che sono stati intervistati dall'Atlantico, una importante rivista statunitense, qualche mese fa, hanno spiegato che questa storia li ha messi di fronte alla consapevolezza del ruolo del pregiudizio nell'analisi dei risultati scientifici, che non fa mai male, questo possiamo dirlo. Se l'effetto del gelato può essere scartato perché poco plausibile, perché allora non scartare anche quello dello yogurt? In fondo anche in quel caso potrebbero esserci fattori che confondono i risultati. I consumatori abituali di yogurt, proprio per l'immaginario sano legato a questo alimento, sono persone in media più sportive, più ricche, più istruite, più propense a leggere le etichette, e magari meno propense a fumare o bere o ad avere altri comportamenti rischiosi. Qui a Ci vuole una scienza ci diciamo spesso che la ricerca scientifica non è una collezione di risultati, ma è un processo, ed è un processo complicato, carico di valori e anche di responsabilità. L'Atlantic scrive che, citiamo testualmente, un ricercatore può preoccuparsi di come la sua storia venga interpretata, potrebbe anche preoccuparsi che essa possa rappresentare una minaccia per la salute pubblica o per la sua credibilità. Quindi i dati, conclude l'articolo, qualunque cosa mostrino sono solo degli ingredienti. Beh, Montino, alla fine di questa puntata l'unica è andare alla caccia di un conopalla immediatamente. Oppure chiuderci in un frigorifero, visto il caldo che fa qua negli armadi. Esatto, prima di salutarci però vi consigliamo un altro ascolto per queste giornate estive ed è La guerra dei gelati, è un podcast di qualche anno fa che trovate nell'archivio sull'app del Post che racconta proprio le storie intrecciate e battaglieri di alcuni dei più grandi e famosi produttori di gelato in Italia. È una storia molto interessante e divertente, se n'era occupata Arianna Cavallo e siamo contenti di segnalarvelo, se magari ve l'eravate persi. Sull'app del Post trovate anche tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza, così come su tutte le piattaforme, principali di ascolto dei podcast. Se volete scriverci potete farlo alla casella ci vuole una scienza, chiocciola ilpost.it e noi vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Ciao!